Allora siamo qui abbiamo cambiato un po' la disposizione del nostro supermarket che adesso sembra veramente un supermarket di contro coglioni Eh? O sbaglio? O sbaglioni? Grazie Affa grazie per i 50 Allora qui siamo a 840 dollari, siamo messi abbastanza bene fratello Manuello? Oh Manuello che dici? Buongiorno Manuello E' tutto a posto? Tutto a posto di Dio tutto a posto E' venuta un po' del dente ma alla fine ho fatto un po' dei pagamenti contanti Che la gatta ti hanno riuscito i 50 euro dentro la gatta però tutto bene tutto bene Lui pure venino dorme, Manuello dorme qua aspetta vi faccio vedere dove E Manuello dorme qua dentro c'è il suo lettino un po' più là Ogni tanto va a mignote che passano il pieno qua E però sempre puntuale eh Manuello va a letto veramente penso per le 9 al massimo E' già tanto e viene subito qua ogni volta per alle 8 il supermercato Io come giusta giusta datrice di lavoro arrivo verso le 9 E devo fare qualche ordine? Manuello manca qualcosa? Dio tutto guardate mi riprendi un pacchetto dei paghetti E c'è un po' di farina quella di grano duro E mi hanno chiesto un po' di olio e quello dell'oliva che riprende le bottiglie E non dormi no vedi te perché c'è un po' troppo di yogurt Vedete che è caduto qualcosa? Vabbè da mano ci penso io dai va bene ci proviamo va? Mercato Prendiamo tutto I cereali sono finiti non mi ricordo Ciao ragazzone di Toc ben arrivati I cereali? Ci stanno i cereali? Ah Manuello ma ti ho chiesto che mancava Ah di no vero i cereali Di 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 ci sono tutti quelli Tutti quelli che scaglie di truccolato Va bene ok Manuello prendiamo quest'altro Aggiungi qualcosa O yogurt è scaduto palesemente Adesso boh O yogurt si Vediamo un attimo dai Panaffette Mi pare che mancava questa farina acqua che è una pasta In realtà ma fa bene E il formaggio se finì Asgana oui questo mi pare che mancava L'acqua non mi ricordo La tua foto di copertina con Manuello su YouTube Spessa bellissima L'ho riso tantissimo Quando l'ho fatto Mentre la facevo E l'olio d'oliva mancava E poi che cazzo era? I dolci ci stanno Yogurt non lo voglio più vedere Mettino yogurt in sconto Ma veramente lo voglio dare via Perché non ce la faccio più A che livello sei qui su TikTok e non si vede? In che senso fratea? Ah che livello sono di qua? Non mi ricordo La troca l'avete? L'avendo? Dici? Ah gli spaghetti Devo prendere Mi pare Oddio non è che li ho già messi Aspetta un po' No Arredo il mio prodotto Eccoci qua Spaghetti Vabbè Andiamo un attimo così E poi a mano a mano rincuaramo I sciocchi pichi L'ho messi Non l'ho messi i sciocchi pichi Sì come no I sciocchi pichi L'ho messi Allora Emanue Te apro Oh guarda che carino Questa è Bartolini Bartolini è molto più preciso Guarda Guarda Bartolini che te fa Eh? L'hiamo fatta I spaghetti E mo piano piano Che vedemo Lo Iemo Tutto coemo Comunque C'è l'olio d'oliva Topperoni Topperieni Ci stanno più ripiani Disponibili Boh Lo mettemo qua Grazie Tink Ciao Beli Aspetta un attimo Che c'è qualcosa Che non cosa Con sto cazzo De TikTok Ogni volta Mese in palla Mese cosa Tutto a posto Vedete Tappotto 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 Di TikTok Ma noi non ti dà la mano Le pacchine No sono fame di fracico Non me dà No 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 Lui sta solo in cassa Va bene così Perché se no mi fa danni Mi sposta la roba I giochi pichi Già finito Sì che cazzo Non ci stanno più scaffali Mettimi qua va Bene Poi E le fromage Le fromage Oh le fromage C'è bion Quando sta Le fromage Eccola qua Parmigiano Grattugiato Reggiano Che te fanno Paga 5 euro E 20 No no Li riempio Tutti Riempio Faccio un macello Faccio un bordello Vi faccio Vi faccio Vedete io Ok Butta lo scadolone Allora il panaffette Mi pare che C'è Che non mancava Ah non ci stanno più Non ci stanno più Scaffali Zio 3 Aspetta un attimo Che ne metto uno qua Devo ordinare uno scaffale Boni Arredamento Scaffale E Piccolo scaffale Che vuol dire Piccolo scaffale Chi è il piccolo Vabbè proviamo sto piccolo scaffale Ma sono curiosa Guarda sono curiosa Di questo piccolo scaffale Frate Davvero Mamma mia Oh questi sono quelli D'Ikea Lo sottratto alla macchina Zio Bella merda Sto piccolo scaffale Ma non va qui Ma che cazzo dici E mo che fa Ma che ho preso Ma che ho preso Ma batte Naffanculo Tu piotte buttate Ma va a cagare Va Sempre i suoi dei cazzati Sembra io che compri cose Per casa mia Per l'arredamento De casa mia Totale Prendo sempre minchiate Che poi non vanno bene È un bello Questo ci si fa benissimo Poi misure sbagliate Senti frate Però così veramente Non se Scusate Se vi togliete un attimo Dai coglioni E Facciamo una cosa Facciamo un bel supermercato Come castra cazzo se deve Mettiamo Cominciamo a mettere tipo Qua così no Nanni corridoi Aspetta che ne pio un altro Aspetta Aspetta Sono 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 euforica Sono euforica Sono euforica Voglio spendere tutti i miei cazzo Dei sordini E gli scaffali Zio P Ti mi piace Mi piace Aspetta Mi faccia passare per cortesia Sono piena di scatoloni Voglio fare una cosa Pazza 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 An culo Pazza 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 Per Gesù Voglio Così Eh Bello Questo Lo lasciamo un attimo qui Non posso Non posso più buttarlo Oddio Da non è finito Oddio È sparito No Frate Male 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 È sparito tutto Zio Piero Grazie Le vendite Di yogurt Sì Proprioni I cichipichi A posto Ah Manorità Di sordi Ma che davvero Davvero Manorità Di sordi Scusami Un attimo Pregatura Di chi Ah Allora A posto Manorità di sordi Ma scusatemi Ma Mi state dicendo Che lo scaffale Si può Si può Ordine Cioè Scusate Ciao Il magazzino Si può sbloccare Ma come cazzo Se sblocca Il magazzino Ah va bene Ok Manorità di sordi Allora Perfetto Bene così Eh lo stavo facendo Riccardo Ma poi Via 800 Il magazzino E vabbè A fine Ampliare l'aria Non so Vediamo un attimo Se sta qua A fine giornata Vediamo quanto ci abbiamo E via Gestione Fatture Intanto pagamo Affitto I cazzi E i mazzi Sviluppo Acquista sezione Per arretare Espandere il tuo Supermercato 4x4 Richiesto sezione 3 Quindi prima Bisogna fare sezione 3 Possiamo anche Ingrandire il supermercato Si Licenze Ci abbiamo le licenze Per il prodotto Da acquistare Ok Fatture Sviluppo Assunzione No Magazzino Acquista Si può acquistare Il magazzino Avete ragione Beh e allora Toccherà acquistarlo Però prima Bisogna finire Questa giornata Infernale Perché se no Come si fa Un po' Particolare Passa il lato Per il magazzino Eh Ho capito Mi servono 800 Dollari Dovi pio Devo fa Li devo fabbricare Un attimo Passa bello prima Accendiamo la luce Che qua veramente Vabbè Du scaffali Per un pezzo De pane Top Sarebbe da Assume Il fornito Il rifornitore Che me ne faccio Il magazzino Non lo so Però io Un magazzino Voglio Ci dorme Emanuele Almeno Capito Se non tu cazzo Dormi Gli scassonetti Serve a cosa Se poi in futuro Prendi Un dipendente Ti posa tutto lui Dipendente di cosa Del magazzino Prima il magazzino Dopo il rifornitore Ora che c'è da fare Su sto gioco Ma c'è da farmare Una cifra Ma veramente tanto Troppissimo Davanti alla porta Per terra Tipo cane da guardia Esatto Vedendo gli altri Il magazzino È per nulla In realtà Che vuol dire È per nulla Non serve a niente Il magazzino Possono dormire Il rifornitore Emanuele Esatto Dipendente di prodotti Nel negozio Bello 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 Oh c'è gente Emanuele Che succede Tutto a potto Tutto a potto Emanuele Vediamo un po' Se qualcuno Se lamenta Vuole qualcosa Che ne so Qua giornata Sta per fine Abbiamo fatto 600 dollari Non bastano neanche Per pagare A tatti I sordi Emanuele Quando avrete Antiprodotti Vi servirà Sì Quello sicuro Però così Boh Per far qualcosa Di nuovo Lei è sciancata Proprio Lei è sciancata Proprio Vabbè Vediamo un attimo Guarda lui Questo è il tipico Palestrato Alto 1,50 m Poverino Guardalo Scusate Ma che rapporto C'hanno Questi due Uno è alto Questo è un bambino Russo Che fa Le olimpiadi Non lo so Che vuol dire Alto 1,50 m La farina è finita Ma ora riforniamo Tutto Sembra Yurikeki Sembra Guardalo Ma che No no Sorta pure 1,50 m Figurate Però Cioè Questo 2,40 m Ma che Sembra Un nano Che Ma che Può essere Pure che Quello invece Non è 70 E l'arte 1,90 Mo dividi Tutto il reparti Non riesco a trovare La farina Che farina volevi Signora Guarda che Questo è un posto Rispettabile Se ne vada Eccoci qua Due casse Ma per fa che Ma che stai matto Dai Manuello ce la fa benissimo Dai Manue Vero Tutto bene Signore Signore è un po' lento Se faccia i cazzi suoi Manuello È giusto Il sale Vuole un po' di sale Vuole un po' di sale Vuole due cazzottoni Signore Se ne vada Va se ne vada Bella Io Preparare il negozio E li devo tutti Ma che Ieri è il giorno Ma che finisci Che devo Che devo Portare a casa 800 dollari Oh Takumi Tutto bene Buonasera E alla prossima Takumi Arrivederci Il formaggio Vatta a comprare In formaggeria Bene Emanuello Quanto sei preso? Amanue Che sta? Entrate Avrete l'affitto Ah Pagate Dovendente Verso 80 dollari Prodotti Non trovati 10 Sto cazzo Eh vabbè Dai Piano piano Che devi fare Tocca fa un'altra giornata Sì Tiè Guarda là Tutto vuoto Ma mo' io la faccio vedere Ah signore Signore Che trovano le cose Guarda Allora Prodotti Cereali Questi Cazzi Mazzi Lazzi Bazzi Fino a 10 Fino a bottiglia d'acqua Bottiglia d'acqua Due Ma che straminchia fa? Vabbè Compra Poi Eeeh Ah no Minchia Mi sa che era qua Vabbè Poi vediamo Olio d'oliva Famo così Regà Perché io Se no Ci capisco un cazzo E Veramente O 10 Dove siamo arrivati Sale E torta Da torta De qua Torta qua Dolci Ordino tutto Poi Quello che manca Manca No lo yogurt Non lo voglio Zio 3 Leva sto cazzo De yogurt Se nessuno Si caga No regata Non è possibile Dai Si è scatuto davvero Sti cazzo De yogurt Cioè Costa 1,99 Sul mercato Due dollari Ma perché Non lo vogliono? Ma perché Non lo vogliono? Mi manno Armanicomio Scontamoli Scontamoli 1 dollaro Zio P 1 dollaro E 50 Che ti devo dire 150 1 dollaro e 50 Dai Non mi cagare cazzo Su Piate questo Madonna De yogurt Guarda 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 Questa è sda Questo è sda Le bartolini Tutti Eretti Allora Roba colazione Dolci Cazzi e mazzi Qua E se butta Via Qua Famo notte Frate Famo veramente notte Qui E L'avanzo Lo mettiamo qua Non mi fate Mette scatolini in giro Quindi lasciamo così Senti Manuello Intanto apri tutto Perché almeno Vedete Aspetta Farina Perfetto Il latte Zio Il latte Va bene Il latte De sette giorni fa Direi che pure qua Ci siamo Scatolino Che dici Togliamo magari Scatolini da Da qua dentro Che ne so E il caffè Narvalo Lo mettiamo qua E Questo qua No rimane Ma che è Un po' Per caso Come si dice Un po' Perprezzato Che nessuno So compra Sa fare La fine di yogurt Me sa La fromage Again La fromage Adesso Soffi tutto La fromage Ma che per caso Io abbassavo troppo Il prezzo Oppure vi piace La formagella Me sa Le bottiglie D'acqua Pure qua Ce ne abbiamo 75 Ma Va bene No merda Zio Pero Non ho messo Una lì Che non doveva Andare Vabbè Bene così Via così Via col vento E' rimasto uno fuori E lo schiaffamo qua Il tè Il caffè della peppina Non si beve la mattina Né col latte Né col tè Ma peke 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 Ragumi Già qui di prima mattina E che è E che è La super pasta Va bene La mettiamo qua Pure questa Che te devo dire Ci sono 700 pacchi De pasta Vabbè I chichi pichi Chichi pichi Chichi pichi Mettemi qua Ma ancora Gli scatoloni vuoti Non ci riesco Vedi che ci avessi Il magazzino Oh Snipero Buonasera baby Grazie mille Per la resab Chico Grazie Bentornato Buonadera Buonadera Bene arrivato Le uova Sono Oh siti un po' C'è qualche scaffale Vuoto Sti yogurt Finiranno Entra la fine del gioco Non lo so Guarda Che giuro Non lo so La farina Another farina Mettiamo acqua Olio Che cazzo Di olio c'ho Ok va bene Va bene Capito Piano piano Emanuele Emanuele Me manna Me manna avanti Alla cassa Capito Mentre io Metto I rifornimenti Emanuele Gli va E se Emanuele Non gli va È un problema Allora Ascolta Vabbè Cominciamo a mettere qua Che magari ci mette Ma roba Ma roba Da colazione Qua Veramente Mi rilassa Un sacco Mettere Tutta Tutta sta roba Così Questo rumore Ve giuro Fa un po' Sì Mi rilassa Una cifra Eraiso Mettiamo qua Eraiso Mi servono due casse Ah sì Devo fare i sordi Un attimo Devo fare un attimo I sordi Perché non c'ho più Una lira Allora L'ubanettono Qua Mettiamo qua Così Cominciamo a mettere Quasi L'evaculazione Nel mezzo Scaffare i centrali Gli scarti Sì Che è Sto piaccarci In un scatolone Allora Il pane Lo mette il mio Qua Il pane Qua sopra Farlo dal vivo Purtroppo Non rilassa Ma immagino Però il rumore Che c'è qua Sì In realtà Altro Sale Senti C'è tutto No sore Che cazzo vuoi Oh Manuello Che dice Il Le casse Sono piene Orcozio Che palle Ma non me la metto Eh regà Macello Mi no Mi conviene Fare una cosa Ciao frasella Da tiktok Bellezza Ciao Mi conviene fare una cosa Acquistare L'ampliamento Che cosa che non riesci a trovare Dimmi Che cosa Tu madre forse L'ampliamento del negozio E mettere due casse Il problema è che Dove poi mettere due dipendenti Le casse sono piene E fai la fila Come tutti gli altri Guardate Abbiamo finito Un gioco horror Che abbiamo iniziato Settimana scorsa E stasera E poi come avevo detto Restante della live Ho deciso di portare Supermarket simulator Che è super carino Metti due cassi All'inizio Aiuti tu Manuello Ah Sì Capirai A me mi fate fan cazzo Manco nel gioco Veramente Guarda Però Che devi far Vediamo un attimo Senti Gestione Vediamo un po' Se si può ampliare Licenze Sviluppo Acquista Richesa Sette e cinquanta Fratello Tu capisci Che come te muovi Qua sono sordi Ciao Emiliano Benvenu Mi saluti Mi chiamo Giulia Vengo da TikTok Ciao Giulia T'ho salutato prima Ma non mi sa Che l'ho mai sentito Dai un caffè Emanuello Così si ripiglia Mi do una Redbull Ciao Alessia Petro Ben arrivata da TikTok Baby Controlla i prezzi Che coglioni Che palle Fa sto lavoro Mi sono rotta già i coglioni Allora Che devo controllare Ma se alzassi in poi i prezzi Sette dollari Perfetto A torta Quattro e trentanove Ok Per pasta Tre tantardee Ma anche troppo poco Ma anche troppo poco Tre settanta Conferma L'olio evo Va benissimo Eeeh Le casse sono piene Ma tu ti vieni qua Per romperli coglioni Sì Dimmi una cosa Ma apri solo te Un cazzo di supermarket No Ma va benissimo Il sale 2,49 Perfetto Lo zucchero 2,40 Anche Mamma mia Mamma mia Regala fila Manca veramente Da Lidl Guarda Senza andare Negli scaffali Che cosa Ah cambiare il prezzo Ma davvero Ma davvero Mi stai a dire Questa è un'ottima cosa Da sapere Allora Devo acquistare La sezione 3 Ho paura però Di non avere Sufficienti soldi Per pagare Manuello Devo comprare La cassa E fa Manuela Me sa Eh si Supero Metà de si I gemelli chiedono Quando soffri d'amore Scoprirei quanto è buono L'alcol Cosa Cosa c'entra Ciao Clelia Grazie Grazie mille Ciao Gaia Ben arrivata Sì cioè Ho speso mo Un sacco di soldi Per i fammi casa I fattori Ho pagato Ma dici Oddio Io ho tolto la casa Ma mi sembra Mi serve un amplino Però Mi sa Si O no Eh Vabbè Si Però Non ne la fa Non ne la fa Zì Non ne la fa Guarda Manuela Non ne la fa Più Guarda Manuela Volevo dire Annaggia La metto domani La cassa Dai Manuela Quasi finita Sa giornata Forza C'è solo Cinque persone Da finire Via Sta su da freddo Manuela Tra un po' Stira Manuela Si No regà Mo famo finir tutto Domani è un altro giorno Riforniamo E abbiamo Sta impazzendo Guardalo Sta strappando Pure il giletto Dai Emanuele Non mollate Tutti noi Emanuele Gionina Si è scordata A sale Si è scordata Pure che mutante Non lo so Vabbè Ma prende un attimo Di pazienza Signora abbiamo Una cassa solo Ci stiamo evolvendo Domani avrete Un negozio Miraviglioso Ho separato I mille dollari Mo finiscono Questi quattro Stronzi in fila E Mandiamo un'altra giornata Ciao Vali Buonasera Grazie per i tre mesi No regà Ma è meglio di così Non si può fare Tocca espandersi Dai E' tornata la Ferragni E' tornata la Ferragni Pure oggi Grande Perfetto Proprio lei Dai Emanuele Che è l'ultima Manuelo Manuelo Bravo Emanuele E Dai Eroni E Dai Eroni L'ultimo Trovati 12 Ciocchi Sono aumentati Di prezzo Ciocchi pichi Ciocchi pichi Orco 2 Se sono aumentati Zio 3 I cicchi pichi 6 e 15 Mettevo noi Ottimo Arriga Dai c'è qualcosa Che non va C'è qualcosa Che non va Sto yogurt Non può rimanere Cioè non è possibile Che nessuno mi prenda Yogurt E' buggato dai In settimana Ma niente probabilmente Cioè Non è possibile Che nessuno Vuole lo yogurt Ma come mai Ma pure il prezzo Cioè Ma dici Sono scaduti davvero Stavo con le 50 Prezzo di mercato Due Dai non è possibile Ti opero Non volevo fare questo Volevo Vabbè Non mi fa prendere Ma dei centesimi Non mi si pia nessuno Rimetti gli scaffali Al centro Sposta il tuo mobile Dal pc Al muro A destra Boh Non lo so Proviamo a fare Qualche cosa Che ne so Sì Comunque Tocca Spostare roba Vediamo un po' Allora Piani piani Zitti zitti Non voglio far minchiate Perché se veramente Lo metto incongruente Eccoci qua Bene La cassa La mettiamo qua Cioè La mia postazione La mettiamo qua E a sto punto Manuello Ci tocca Comprare un'altra cassa Vediamo un po' Cassa Zio Pera 500 E la madonna Che cazzo Cassa unitaria Che cosa cambia Scusami Cassa specchiato Cassa unitaria Cambia Specchiato Scusami Lo super market Da poco In realtà Ma Dite che Mi tocca Cioè Io forse Metterei Metterei una cassa In più Prima Vi dico La verità Però capisci Mezza fella Così Mero tempo al culo Mero tempo al bucchetto Mero rode Eh zio Pema Com'è che Minchia Minchia fai Minchia fai Ah posso passare È grosso Troppo ganso Fratello Non so dove mettermi Fratello Mi metto qua Ascolta Giusto però All'1 euro Sono fatti così Computer I cosi I postazioni No lascia fare Che qui Ci entrano E mo Mettemo Siete qua Mamma mia Come cazzo Metto sto coso E qua Dovrebbe andare Però poi Questo Non lo so Non lo so Non lo posso girare Sennò è un macello Non lo so Allora Siamo pieni Di olio C'è probabilmente Un'incongruenza Di prezzo Vabbè 5,60 Mettiamolo Dai Siamo pieni Di sale Vediamo il sale Quanto sta È un pochetto 2,30 Il caffè Ok Il latte Da riprendere Latte Caffè I cichipichi I spaghetti Erbasmati Tutte ste cazzate Qua Allora Allora Latte Caffè Abbiamo detto Gli spaghetti I cichipichi Sempre pronti Pure questi Latte Caffè Le uova Se non mi sbaglio I sobasmati Spaghetti Gli altri E va bene Ma frate Stavamo messi Male 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 Qua con le spedizioni Sì Il formaggio Formaggino De merda Dai Formaggino Dovremmo comprare Anche Altri prodotti La farina Pure è finita Ma quale farina Però Eh Non si può vedere Self Fridge Freezer Un cazzo Perché non ce l'ho Crate Che vuol dire Crate Vieni La farina rossa Farina questa qua E compramo Ste cazze Cos Altri 700 Milioni De pacchi Da Da Metta A posto Ma raga Mo stanno così Siete buoni Aspettate un attimo Lasciamole così Vediamo se Se va Vediamo se va Mettiamo la roba Per la colazione qua Così Cominciamo a Daire in ordine Emanuele Procede Procede Che te devo dire Vediamo un attimo Vediamo un attimino Il ripiano è pieno Capiamo un altro No Ancora altro latte Si c'è Oculto Le capigure Non le posso più vedere Eh Le bollette Le fetture Le stavo pagando Ma le vedo bene Le vedo meglio Farine supreme Super vendute Comunque Grandi Grande qualità La farina supreme E Il caffè Ti posso buttare Prate Ma perché Dici veramente Sono scaduti Il butto Ma davvero pensate Che siano scaduti Senti riempiamo questo Diretto buttiamo Senti però mi dispiace Dai Li sistemamoli così Eh Mo li metto Veramente a basso prezzo Cioè Piuttosto che Non venderli affatto Capi Prezzone da supermercato 0,99 centesimi Dimmi te Il pane Il pane pure sta tutto qua So re Cioè Ne chi gioca il pane Le fromage Mettiamo qua Infatti Io ho detto a Manuello Dei magnasteri a colazione Ma dice che ne vuole Manco Manuello Vi vuole Che ci devi fare No cazzo Ho sbagliato Devo metterli qua Vabbè Vabbè aspetta Posso farlo Scusa Da ieri Daierone E Vabbè Li mettiamo qua sotto Fammi vedere infatti Se se può Un attimo Non corrisponde A misura Non ci so Ho fatto la fan Fu credere Dove lo mettere qua Vabbè Vabbè Mi mettete qua Manuello è intollerante A lattosio Chiaramente c'è Piena scacaccia Che infinisce più Se chiamiamo Lo yogurt a Manuello Vedrai E niente Mi dobbiamo ritorno In cassa Un'altra volta Oh Buonasera Salve Oddio Sì Con tanti cash Le devo Un cazzo di resto Perfetto Arrivederci Grazie Manuello Come a gara No 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 T'ho troppo forte T'ho troppo forte Io non t'ho forte Come te Non t'ho belote Ti preoccupa Manuello Dai Che se fai prima di me Te regalo Un 10% di stipendio In più E vabbè 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 Quello Ambolla Troppo gentile Sì Todale Gara per il cassiere migliore Io e Manuello Ho tutto detto Manuello Ah no C'ha un fascino Stomo Ma che gli fai Alle donne Manue Che gli faccio Alle donne Ma che Ma che d'addio Un dollaro E 75 50 60 70 1 2 3 4 Arrivederci Manuello Te sto a batti Guarda Manuello C'è ancora Amorona dietro te Signore Mi da 1 1 dollaro E 54 50 Arrivederci Hanno preso Le yogurt C'è credo Non ce sto a credere Signorina Lo yogurt Gli fa bene L'actime La mannacca Potrebbe prenderlo Potrebbe prenderlo È Bividus Activius Tutti De Manuello Hanno Vabbè Hai vinto De Manuello Quasi in segreto Guarda Gioco platinato Il burro Signore Signore la cassa è anche qui Poi mi lamentate che ci stanno a filare la cassa Devo comprare cioccolata La gente vuole venire a fare Cosa a me Vabbè C'è del fascino Manuello C'è del fascino Vabbè a sto punto Io mi svongolo No È arrivata la signorina Britney Spears Ok Oh lo yogurt Vedi che la signorina Ha capito tutto Sì Allora Oh Mi sono sbagliata 14 E 98 Magari con un punto Che dici Arrivedorci Allora che dovevo prendere Burro da l'acchioto Il burro da l'acchiti E Che altro mancava Regà Comunque Il prossimo acquisto che farei È Ampiare i prodotti Ma dove sta la cioccolata Barretta e cioccolata E che cazzo ci fanno Vabbè Piamo pure questi Bon se sa Marshmallow Sono sempre buoni Dio ma che fa questa Mi sta aspettando in cassa Arrivo signorina Ha visto che ci sono I bivitus activius Regularis A 99 centesimi Sì sì L'ho visto ma Vado bene in bagno Nessuno gliel'ha chiesto Signorina Veramente Nessuno Mi fa piacere Saperlo Comunque Arrivederci Ah Mo va a barretta e cioccolata Credo che caghi mattoni Se te mangi solo la cioccolata Ma dov'è la barretta e cioccolata Cioè no L'ho preso Vabbè Anche sulla tastiera Puoi scrivere i conti Io sappia roba del secchione Penso che non fosse quello Ok Ehm Magna la cioccolata Se mangi invece dello yogurt La signorina Ah la burro da ragged Burro da ragged Signora ma le bollini Oh no no Adesso c'è sta un altro Signora ma le vuole le figurine di Harry Potter L'ha preso l'album ma non ero 99 No 16 Me coglioni 16 83 50 60 70 80 1 2 E 3 L'altro giorno Ma lei le vuole le figurine di Harry Potter Io Sì 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 244 euro Per la spesa che faccio io Porco due Esco una volta di casa Sperano dubiotte del supermercato Signora un attimo Mi faccio accendere la luce Che sto diventando accecata Dov'è qua Oh A carta 26 E 68 Hanno preso lo yogurt Ogni volta è prendendo lo yogurt Hanno preso lo yogurt Che cazzo Finiranno sti cazzo De yogurt Guarda qua sta una ruba E il cliente sta aspettando per pagare Ho capito ma Cioè veramente un secondo Neanche a fa così Ma questa è quella di prima Signore guarda lo yogurt è meglio Arrivederci 18 E 29 Pin E tasto verde Grazie O zucchero a bello Che ce ne devi fa Amanuello 17 E 19 Dopo il beep Grazie E di Barry Se ne va da Amanuello Top Vabbè tanta giornata è bella che è finita Quindi Non riesco a trovare Crispicicicicereali Ma te vai a dare una svegliata Porco due Crispicicicereali Ho 58 anni Voi i crispicicicereali Ciao monsieur Ciao baby Assumo un cassiere Ma so io la seconda cassiera Sì Mo basta C'ho più sordi Cioè ho finito proprio I cose Stanno a svuotare Guarda signora come si accatta Il tene Cazzo e cazzo Ci ti fa questo Signore Signora le fai i bollini Del Conad Li vuole? 29 E 09 Prego Arrivederci Signorina la tessera Conad Sì Grazie Gliela passo E se puoi acquistare L'espansione Che cazzo acquisto Che non c'ho una lira Anzi Voi che sto a fare cose Ma 4 dollari Che la carta Mi paghi Ma te vergogni Vivo veramente Ciao ragazzo Ciao belli Ragazzi vi ricordo Che mi trovate in live Su twitch Ma che soprattutto Trovate tutti i miei giochi Su youtube Ho due canali Kodomo Parra Kodomo Gaming Insomma trovate in tutti e due modi E Kodomo Live Su Kodomo ci sono i giochi editati Kodomo Live Ci sono tutti i giochi interi Su Kodomo Live Sto mettendo la La serie di supermarket E tutto ciò che non è horror E che sono comunque giochi lunghi Tutti i giochi lunghi Tutti i giochi che non sono horror Li metto solitamente su Kodomo Live Quindi se volete recuperarveli E ve li potete recuperare tranquillamente Lì Finiamo soggiornata Emanuele Dai E vatti a fare una penne Che va Kodomo Cooking E basta Due canali Non ne apro più nessun altro Vi giuro Se no confondo e basta Hai gli scaffali vuoti Quante le nostre casse Allora licenze C'è da acquistare Roba nuova ragazzi Per esempio Su Catarancia Bibita Cola Zapp Sganawats Tutta sta roba qua Va presa Ok Va presa Prima o poi va presa Perché se no C'è sempre Le solite quattro cose E ci rompiamo pure il cazzo Quindi sicuramente Va presa Una licenza Siamo arrivati Credo al livello 13 Me sa O anche di più Grazie Simone Mel Grazie per la tier one Thank you Grazie mille Grazie mille E se prendessi Crissinbon Non ci stanno Purtroppo Li avrei presi Molto volentieri Quindi dalla licenza Del livello 12 Cominciano ad avere Tipo detergenti Quindi l'ultimo Non è l'ultimo Però eh Però Ce n'abbiamo un altro Possiamo prendere Altra roba Roba tipo sapone Shampoo Carta igienica Mi piacerebbe averlo Però porco 2 7,50 Che faccio Che cosa prendo Dai la licenza Tocca prendela Che quale prendo Prendo altro cibo C'abbiamo Succo d'arancia Coca cola Succo La blatta Altro latte Una bibita turca Oppure ci abbiamo La candeggina Detergente Sapone Tutta questa roba qua Oppure mozzarella Parmigiano Miele Tonno Uova Zucchera a velo Ma ho già rotto il cazzo Burro Cerali Pollo Patatine fritte Pizza mista Sacchetto di patate Questo mi interessa Ma 1100 Si No 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 Non ce l'ho Non ce l'ho Non ce l'ho Dai no non ce l'ho Magazzino Ma c'hai monero Manco perché comprai cose giorno per giorno Vuoi comprare magazzino Volete che espando il negozio Madonna che noiosi però Abbiamo un po' di cose nuove Che ne so Vabbè mercato Arredamento No Gestione Sviluppo 750 Sessione 3 Espandiamo sto cazzo il negozio Stiamo salendo a tarda senza una lira stavo Licenze C'avemo 400 dollari Non possiamo comprare Sponacicenze Vabbè Vabbè Eeeh La madonna Oh E la madonna Oh Ah frate ma qua stiamo veramente On another level Ma qua si sposta subito Emanuele In del posto In del cassa Cioè ma qua ci mettiamo Er de gas Bus Aspetta Come si fa qua E qua tocca metà la cassa Sì Mica se scherziamo O no Reparto frigo Ma mettiamoci le casse No Pensate che Abbiamo più le soldi per fare niente Manuele qua Guarda quanto sta a caruccio E Manuele Manuele Cioè non lo so Mi sembra Vuoi mettere le casse lì Che cazzo Non mi sembra molto Aspetta che Tocca Maremma maiala Cazzo le cose Allora Le casse davanti all'uscita Mo ve picchio Mo ve meno madonna Mo ve gonfio Guarda Ve gonfio madonna Allora mettiamo sti cazzi Dei frighi Ah Di qua vanno i frighi Vanno i frighi Tipo vengo Colopo Metti i frighi Sotto al sole poi Così se scongela tutto Ma ve pari A voi Vabbè mettemoli qua Vostra Allora uno qua Uno qua Mo tocca comprare Pure i freezer Tra un po' Vedi eh Guarda 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 Dove sta l'altro i frighi Stasera Ve picchio tutti eh Allora Ok E Senti a sto punto Sto cazzo di computer Mo metto qua Che c'è che N'ha senso Desiste Però vabbè Ah lo mettiamo qua No Mo mi metto al sole Mi metto Guarda Mi metto al sole Bella Calla Calla Oh Guarda che robetta Tiè Eccoci qua Davanti ai frighi Io comunque Con un scaffaletto Così io potrei anche Mette No Sbagliata Aspetta Che sto coso In mezzo al cazzo In realtà Non dovrebbe star qui Manuel Lo ho abbandonato Un attimo qua Ma mo ci pensiamo A Manuel Lo tocca Fa un attimo Vediamo se qua Ce va Uno di questi Secondo me no Secondo me no Vabbè Facciamo così Allora Rimane un po' Troppo spazio Per i miei gusti Eh però Vabbè Vediamo di capire Vediamo di capire Qui ce ne sta uno Perfetto Non ce sta uno È vero però Eh Potrei dire Zio Pero Lo potrei dire Mettiamolo qua Ok De qua accanto Quest'altro Eccoci qua Poi Un'altro Sgoso Qua Mettiamo de qua Però qua ci stanno Le casse Ecco Manuelo Allineati Allineati Belli Caruccelli E Boh Questi li possiamo Tranquillamente Mettere in mezzo Comunque no Mi sembra Abbastanza Fattibile Facare Tipo un po' Così Qua Eccoci qua E Sì Sempre allineati Al centrimetro Poi se ne metteranno Altri qui Che ti devo dire Va Dai Ne mettiamo poi altri Qua ne mancano altri due Ma c'ho più una lira Quindi che ti devo dire Se non Se non Ordino Qualcosa Non ho più niente Quindi direi che Va bene così 400 dollari Vediamo che cosa è che manca Allora Sti cazzo cereali Direi basta Perché anche basta Olio Cereali Pane Ce ne abbiamo veramente Un sacco Olio cereale Pane Basta Il resto si ricompra Quindi Farina Ok Olio Via Pasta Zucchero a velo E Vabbè Facciamo dopo Facciamo il frigo Caffè Tennero Farina E Spaghetti E riso basmati Fio del Dio C'hanno da fare Con sto riso basmati Poi Che ci abbiamo Il sale La torta Ci abbiamo più sordi Frate Male 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 Choccolatini Male Malissimo Per ora Facciamo così Acquista E vediamo se manca qualcosa qua In realtà Il formaggio Il formaggio L'unica cosa che manca Vabbè Ho già ordinato Però Fridge Formagello Toccherà prenderlo così Pagheremo a doppia Spedizione Te devo dire È un'altra categoria Che ti vuoi categorizzare Stiamo lì a fianco Sti cazzo cioccolatini Ragazzi Gym Simulator Non ha apportato Nessuna miglioria Nessun aggiornamento Niente E quindi io Cioè Mi devo mettere a giocare Un gioco Che sostanzialmente Non c'è niente da dare Non c'è più niente Abbiamo finito tutto quello Che potevamo fare L'abbiamo fatto Che se mettiamo a fa Frate Le farine le mettiamo Insieme qua Va bene il caruccio Sto supermarket Comunque Devo dire alla fine Ma quante cazzo De farine ho preso Zio P Mannaggia Li morti Ah Dios mio I faretti Amo pure i punti Lucio I punti Lucio Va bene Gli spaghetti Eccli qua Mettiamo le arti giù Senti Prima di iniziare Voglio Voglio un attimo Riempire sta roba Perché mi sta a nervosia Vabbè Possiamo metterlo qui Ma metti i prezzi Su su Perché Dici che Che è aumentato Eh Vabbè Mettiamo a 4,50 Niente di Incredibile Dai Altra farina Ok Ok Formage Formage Bene Dai possiamo cominciare ad aprire Ad aprire la situazione qua Il caffè Il caffè Il caffè Lo mettiamo di qua Di tutto qua Così guadagni prima Eh Sì Ma non posso Neanche esagerare Perché altrimenti Cioè Mi dicono Che c'è prezzi alti Capito Acqua e sale Controlla Aspetta Aspetta Boni Carmi 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 Io sono nervosa Altro che Allora Altro burro da raghi Let's go E Boh Mettiamo di qua E qui parte Minacione Acqua e sale Mi vai bere È anche abbastanza basso In realtà Possiamo anche aumentarlo Due e quaranta Metterei io Senti che te dico È comunque un piccolo Una piccola realtà Un piccolo supermercato Quindi che cazzo vogliono Due e Novantanove Troppo Ottantanove Dai Ma con Manuelo Mi trattieni Ma con Manuelo Mi trattieni Il bicchiere Da cazzo Passo Manuelo Non c'è Stai Il posticino Signora Buonasera Che fa La pasta all'uovo Ha 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 Prego Che mi dar Contanto Zero Uno Del resto Eccoci qua Arrivederci I Ciamoli diversi Che fanno Qua Sì comunque Così Mi hai svuotato Il supermercato Sì Sono mica Conad Abbi pazienza 50 60 Due E 50 No Ok Ha preso la bottiglia E dopo gli ha cambiato il prezzo Oh Yogurt Mamma mia Lo condando 5 Dollar 80 Arrivederci Ok 29 E 20 Signor Prego Arrivederci Parlando seriamente Non capirò mai i centesimi Ma è tutta roba De merda Inutile ai nostri occhi Ma che rompe I coglioni Il primo supermercato con il caraco Integrato con il caraco Ma vero Qua Qua Proprio il tipico supermercato Piccolino di Roma Dove La proprietaria È una ciaciona Romana Che parla Con i clienti Come se fossero amici suoi Ogni tanto Ogni tanto parla Ogni tanto canta È molto rilassante Questo gioco Io non mi rendo mai conto Che passa il tempo Cioè È Veramente Mi alzo gli occhi E so tipo già le 11 Non si sa come Ah T'ha lasciata la ragazza Signor 45 Bene Questa è la cantata Manuele Grande cantante Manuele Ti piace la musica Italiana Mi piace Mi piace Bello Mi piace Mi piace Lino Bamp Lino Bampi Non è un Cantante italiano Ah no Va bene Guardi Mi sembrava Ok 42 66 Detta inglese Signore Far maggior domo 5 6 7 E 40 Eh Renate a zero Gli piace Manuele Vero Manuele Renate a zero Bello Renate a zero Bellittipo Ticcami Dove Quando Do Lo Dai Ticcami E Ti Angorodò Non L'avevo Conditerato Senti Senti come Senta Canta Manuele Gigi D'Alessio Non Non Pezzo Che Gli Piaccia Manuele Mi Trattiene Il Bicchiero Puoi Iscrivere Con la Tastiera Il PC Ah Sì Posso Provare Un Dollaro Prego 24 1 2 3 4 E 10 1 Let's Go E Dai I Rolli Cos'è 15 Oddio Vero 15 50 My God Fantastico Questa Cosa È Top Signora Svotare Il Supermercato Però Mi Sembra Un Vorrebbe La Luce Comunque Che C'è Qua Dentro È Assurdo Allora 51 E 26 Ciao Ma che Cazzo Scritto E 26 Il Caffetto Stato Mi Sono Finiti Mi È Finita La Merda Dei Piccioni Per Crearlo Mi Dispiace Signora Le Tipe Vanno Da Lui Da Da Vives Da Bello Impossibile Da Vives Da Bello Impossibile Sì Sì Aspetta Che Qua Veramente Altro Che Bello Impossibile Non ci Vediamo Più Cazzo Beh Allora Oggi Non è Che Abbiamo Guadagnato Così Tanto Eh E Grande Fan De Gianna Nannini Eh No Ma Gianna Dallina Detro Non gli Piace Supermarket Simulator È Il Nome Del Gioco Beh 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 C'è Una Piccola Aria Di Ah Mamma mia Piccola Aria Che Devo Veramente Prendere Dei Punte Luce Perché Veramente Punto Luce Almeno Due Eccoci qua Direttamente Da Ikea Perché Sennò Veramente Non ci si vede In cazzo Uno qua L'altro Lo mettiamo qua Io È un po' Vicino Eh Però Va bene Va bene Uguale Un po' De qua Così Eh Voi ci vedete Signor Grave Grave Donne A sto Punto Mettiamo Meglio Anche Questa Cassa Perché Questa Incongruenza Mi uccide Scaffali Di nuovo Completamente Vuoti Io che Vi devo Dire Comunque Questo Computer Qua A me Mi Sta un po' Non per Cazzo Aspetta Non mi piace Questo E io qua Così Arrivo Ma c'è Emanuello Per pagare Non capisco Perché Non fate La fila Da Emanuello Che lo Paga Affasto Ragazzo Spaghetti Vuole Vattela Magna Al ristorante Italiano Oh Takumi Tutto Bene Pure Oggi Stavo Qua Cioccolatini Per tua Moglie Eh Sì Troppo Buoni Cioccolatini Belli Un po' Aumentati Però Ecco Anche Stasera Chiara Ferragni Che viene A comprare Discount Top 31 Signora Chiara 31 E 74 Arrivederci Grazie Il prestito Della Banca Cazzo E' vero Posso chiedere Il prestito Della Banca Ma io Non voglio Chiederti Ma Cioè Già C'erano Nella vita Reale Il prestito Della Banca Lasciami Stato Senti Che Cazzo Compramo Qua A me Sto Supermercato Mi ha Già Rotto Li Coglioni Mi rimasta Solo L'acqua Oh Sto Yogurt Dura A morire Però 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 A 99 Centesimi Una bella fila Gli abbiamo abbattuta Eh Sì Dai Ieroni Ah Regà E' vuoto Cioè E' vuoto Devo Il sale Rimasto L'olio Che qua Anso Togliamo Manca A morire Veramente Olio Sale Cioccolatini Farina Blu Olio Sale Cioccolatini E farina Blu Non da comprare Oh Oh E' chiaramente Yogurt Oh Oh Manuello Oh 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 Manuello Guarda i pacchi Mi prego I pacchi Avete visto Mi sono droppiati Non olio Eh Mi sono già preso Manuello Oh 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 Avete visto I pacchi Come scendono dal cielo Come Manuello Che cazzo De limona Oh 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 Cicchi pichi Metti a pasti Oh 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 Ti rimane in testa Comunque Fa la canzone Assurdo 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 Su Su Forza Veloci Che tocca finire Sto giornata Non è che si finisce Da sola Senti Il farinibus Lo mettiamo qua E mettiamo a posto Meglio Va Senti Non mi fate Va Brutta figura Eccoci qua Perfetto Pettissimo Allora L'olio Asgan olio Lo mettiamo qua sopra Grazie Nerd like me Grazie per i tre mesi Bentornati Bus Grazie mille Che c'è Emo qua Lo Lo caffè Lo caffè Non era finito Va bene così Qui Ok Ma un po' in ordine Bene così Poi se Lo rifornimo Acqua Oh L'acquetta L'acquetta Di Manuello Oh 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 Manuello Abbiamo altra acqua Sui yogurt Sì è vero Me l'avete detto Che cadevano dal cielo Allora Bene Romage Poi Lupano Lupano Lupeno Lupano Potrei mettere qua Andrò a letto Cantando Manuello Oh Oh Ma quanti cazzo De burri da raghi Ti ho preso Oh 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 Mannaggia Manuello Ti guardo Quale film Perché c'è sta fila Allora I cicchi picchi Lichi Mettemote qua I grispi I grispi I cipi Quelli sono i giochi picchi Questi c'è grispi cichi Pensa che nel finale di Reville Partiva sta song Bellissimo Ciao player italiano Benvenuto Allora Allora Sì Sposale Dura a morire No No Mi sono sbagliata Ah Non è la scatola giusta Fanculo Levo metto a posto qualcosa Qualche cosa Le ova Comunque sta roba finisce immediatamente Regà Veramente immediatamente Oh Sitti un po' Oh Eh Dai che forse riusciamo a metterlo in ordine Sto cazzo di supermercato Eh Il tè Il tè Il tè Non c'è posto per il tè Poi vi direi Piano piano lo mettiamo a posto Ma affinché non Se non c'è più le scatole È difficile Latte Che ci faccio Tutta quella farina Ci puoi fare la pasta Ci puoi fare Ci puoi fare i dolci Un sacco di cose Ok Oh Ultimo Zio Maren Zio Ok Possiamo aprire questa ciofeca del locale Vai Oh Eccoci qua Abbiamo 428 dollari Iniziamo la giornata con questo Grazie Smergine Che regala tre abbonamenti per chiudere il gollasso di stasera Grazie baby Sempre dolcissima Grazie mille Capazza Bill Dovevamo comprare il magazzino Frate ma Niente Stata così 800 dollari Moncelozzi Quindi rimarrà così Quindi rimarrà così Sab per Emanuele Comunque Scaffa Quattrini Quattrini Non voglio roba La farina rossa Dove è che se poteva Che se poteva chiedere prestitos La banca Mamma mia Sì 750 Che cazzo Ce devo fa Ah in 5 giorni Devo ripagare Ma guardate Oh all'1% Bono No no raga Niente prestiti Se fanno prestiti No te s'affona Ciao baby Un cliente sta aspettando per pagare Ma c'è una cassa vuota Devi andare nella cassa Dove non ci stanno i cassieri Oh Sì sì Ti sei presa tutti sti yogurt Vuole proprio un HK signora Prego signora La benvenuta Mamma mia Oh 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 Manuele E che compra Il yogurt è tutto bene Tutta pushed Ciao Chiari Buonanotte Buonanotte a chi va Regà Tanto Fidiamo Quest'ultima run E poi Poi si va a dorma Perché si è fatta una certa Settandotte Perfette Ma che se sono Buggati Ma che fanno Ma signora Ma venite risobbasmati Perché ne so io Che fanno regà No regà Chissà se diventeranno Quanta gente c'è Sono diventati Quattro Si moltiplicano Escono dalle fattute Le pareti Ma che cazzo è No vabbè Regà vi prego Io li lascio così Io li lascio così E voglio vedere Quanti si buggano Entro la fine della giornata Vi prego Li faccio bugare Così Oh 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 Manuello Oh 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 Manuello Oh Si stanno moltiplicando Ve prego No vabbè Regà Io lascio così Voglio vedere Fin quanto arrivano Fin quanto si moltiplicano Vi prego Non li sbaglio Non li sbaglio Ma si sia No Manuello Si arrivo Nuova hit Cazzo No